L'annuncio questa mattina a margine del Consiglio Provinciale di Forza Italia, Mirella Cristina si candida a sindaco di Verbagna. Il tavolo del frontalierato ha dato un mandato al Presidente della provincia di stilare un ordine del giorno contro la tassa della salute dei frontalieri. Nella giornata della memoria, medaglia d'onore al partigiano Aldo Cardini, deportato a Mauthausen, l'ha ritirata la figlia. A Baveno sono partiti i lavori di riqualificazione dell'asilo comunale, intervento per 600.000 euro. Si rinnova la tradizione della Domenica del Giglio ad Anzino, ufficiata dal Rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova. La grande impresa di Marcello Ugazio, da Genova alla vetta del Montebianco, raccontata in un docufilm a Laghi e Monti. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la politica, Mirella Cristina si candida a sindaco a Verbagna. L'annuncio è arrivato questa mattina durante il congresso che la riconfermata coordinatrice provinciale di Forza Italia era presente anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, coordinatore regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi. Una decisione arrivata dopo l'annuncio di Fratelli d'Italia di voler sostenere la candidatura a sindaco di Gian Domenico Albertella. Mirella Cristina, riconfermata alla guida di Forza Italia della VCO, è oggi anche un annuncio importante. L'annuncio della mia candidatura a sindaco, fortemente voluta dal consiglio nuovo eletto provinciale, ho accettato perché ho disponibilità di tempo di dedicarmi alla mia città dove sono cresciuta, dove vivo e dove lavoro e poi sarebbe veramente stato incosciente non accettare proprio perché ritengo che Verbagna abbia bisogno di una candidatura assolutamente di moderazione e un programma con i piedi per terra, ragione per la quale inizierò subito dal mese di febbraio e dovrò fare delle consultazioni per la condivisione di quello che sarà il programma del candidato a sindaco perché non si può accettare un pacchetto chiuso di un programma non condiviso. Aprirò a tutte le liste civiche che hanno la sensibilità uguale a quella del partito che sto coordinando e che coordino per i prossimi tre anni a livello provinciale, una sensibilità di moderazione e di condivisione di intenti. I rapporti con gli alleati del centro-destra come saranno? Con gli alleati di centro-destra come coordinatore provinciale del VCO continueremo tranquillamente ad operare. Lo stacco è su Verbagna perché su Verbagna abbiamo veramente delle sensibilità diverse e abbiamo un barco secondo me incolmabile che non potrà in questo momento appoggiare a quello che è stata la scelta di Fratelli d'Italia. Non condividiamo quello stacco che ha fatto anche perché noi siamo sempre stati per la condivisione di intenti e di programmi. Fratelli d'Italia non ha fatto questo e noi ovviamente ci muoviamo in una direzione opposta. Ministro, oggi qui a Verbagna per il congresso di Forza Italia che cosa ha emerso? Intanto la prima cosa che è emersa è che per acclamazione è stata confermata coordinatrice provinciale l'onorevole Mirella Cristina e questo per me è motivo di grande soddisfazione. Mirella è stata una straordinaria collega nella precedente legislatura, si occupava di giustizia è una persona competente, è una persona appassionata di politica, è una persona innamorata del suo territorio e quindi direi che ci sono tutte le caratteristiche per garantire un presidio da parte del nostro partito di Forza Italia in un territorio importante come quello del Verbanese. Questo è il primo passaggio importante. Abbiamo lavorato in questo coordinamento provinciale, in questo congresso, alla presenza anche dei nostri alleati e questa è l'altra buona notizia. E sempre a margine del congresso è arrivata anche la notizia che Roberto Cota, già presidente della Regione Piemonte tra il 2010 e il 2014, sarà candidato alle elezioni europee nelle file di Forza Italia. Cota ha aderito nel partito nel 2020 dopo una lunga militanza nella Lega. Si è riunito ieri pomeriggio il tavolo del frontalierato della provincia del VCO per discutere il tema della tassa sulla salute. Alla fine dell'incontro i presenti hanno dato mandato al presidente della provincia di stilare un ordine del giorno che sarà votato in tutti i comuni del VCO e che ribadirà il no deciso all'introduzione di questa tassa. Un ordine del giorno approvato da tutti i consigli comunali del VCO a difesa dei lavoratori frontalieri per dire no alla tassa sulla salute è quanto ha deciso il tavolo provinciale sul frontalierato riunito al Tecnoparco venerdì pomeriggio all'incontro oltre alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentanti dei frontalieri anche sindaci di alcuni comuni di frontiera come Retrasquera. Nell'incontro durato meno di un'ora le parti hanno sostanzialmente deciso di ricalcare quanto pochi giorni fa aveva annunciato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi in un comunicato dove si è schierato a difesa dei vecchi lavoratori frontalieri e ha predetto che a breve porterà in discussione nel suo consiglio comunale un ordine del giorno sul tema. Il tavolo provinciale del frontalierato ora ha dato mandato al presidente della provincia Alessandro Lanna a stilare a breve un documento che a inizio settimana sarà già inviato a tutti i sindaci perché possono inserirlo nella prima riunione delle assemblee municipali in subordine in caso di tempi stretti basterebbe l'approvazione da parte delle giunte. Il cronoprogramma prevede poi l'invio di tutti i documenti a Roma all'attenzione del Governo centrale. Intanto sul tema in quest'ora è intervenuto pure il PD di Domodossola il già utile contributo dei ristorni fiscali dei frontalieri scrive uno stato finora utilizzato per opere sicuramente necessarie alla città. In questa occasione ci chiediamo se nel prossimo e immediato futuro queste risorse almeno in parte non possono essere canalizzate su operazioni che rendano più facile la permanenza dei lavoratori e cittadini sul nostro territorio. Dal PD arriva anche qualche idea per l'impiego dei fondi. La sanità dicono, pensiamo a infermieri OSC che negli ultimi tempi si sono spostati in Svizzera non solo per convenienza economica ma per condizioni di lavoro e di crescita professionale davvero frustranti. Se non è possibile intervenire, se non in forma di attenzione e stimolo su chi ha responsabilità, sulle retribuzioni e sull'organizzazione del lavoro di questi operatori sanitari, almeno si indirizzino questi fondi verso azioni concrete come sgravi fiscali, supporto all'allocazione, aiuto fiscale allo studio dei figli. In quest'ottica insomma il PD domese si dice entusiasta della discussione che si aprirà in Consiglio Comunale e sottolinea non ci chiuderemo paurosamente alla considerazione limitata agli eventi contingenti stimolando chiunque ha responsabilità a dare risposte per uno sviluppo vero al futuro di questa città. Oggi è la giornata della memoria, questa mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale a Villa Taranto, alla presenza di tutte le autorità del territorio. Nell'occasione il prefetto Michele Formiglio ha consegnato una medaglia d'onore al partigiano stresiano Aldo Cardini, arrestato al Mottalone e deportato in Germania. Era riuscito a ritornare a casa, a ritirare questo riconoscimento. C'era la figlia. È stata la figlia Marinella questa mattina nel giorno della memoria a ricevere dalle mani del prefetto Michele Formiglio la medaglia d'onore alla memoria di suo padre Aldo Cardini. La medaglia è destinata ai cittadini militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ai familiari dei deceduti e gli è stata concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2023. Aldo Cardini era nato a Chignolo Verbano l'11 settembre 1924. Durante l'attività militare rinnegò il fascismo e militò come partigiano sulle Alpi Piemontesi dove, sulle pendici del Mottalone, il 31 dicembre 1944 fu catturato dall'esercito tedesco. Partì dal binario 21 della stazione centrale di Milano e fu internato fino al 5 maggio 1945 prima a Mauthausen e successivamente a Gusen. Fu l'unico dei suoi compagni a fare ritorno a Stresa dove viveva la sua famiglia. Alla cerimonia hanno partecipato sindaci e autorità del territorio e molti giovani studenti delle scuole superiori. Ricordare è un dovere, dimenticare un errore ha detto la sindaca verbanese Silvia Marchionini nella complessità del presente siamo passati in un anno da una a due guerre. Dal vicepresidente della provincia Rino Porini l'invito a non dimenticare gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte. Il prefetto Michele Formiglio che ha confermato la sensibilità sul tema della giornata della memoria ha invitato a non dimenticare con l'animo sempre attento a contrastare negli angoli della nostra società atteggiamenti a rischio. Alcuni brani sono stati letti dagli studenti mentre l'orazione sul significato del giorno della memoria è stata affidata allo storico Pier Antonio Ragozza. Poi la consegna della targa Marinella Cardini accompagnata dall'assessore del comune di Stresa Carla Gasparro. E la medaglia di Aldo Cardini con la figlia Marinella è stata anche protagonista della cerimonia organizzata a Stresa dall'amministrazione comunale in piazza Sirtori di fronte al monumento che ricorda i caduti nei lager nazisti. Presente l'amministrazione comunale con le associazioni cittadine, le autorità e il parroco Don Gianluca Villa oltre a un gruppo nutrito di cittadini. L'assessore Carla Gasparro ha ricordato l'importanza di tramandare la memoria alle giovani generazioni e per questo è intervenuto anche un giovane Stresiano Stefano Lagostina che ha ricordato la figura di padre Massimiliano Colbi e ha offerto una sua personale riflessione. Strutture e risorse è quanto occorre alle carceri piemontesi secondo il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano ospite questa settimana con la garante verbanese Silvia Magistrini del Sasso nello Stagno. Il settimanale curato dal nostro direttore Maurizio De Paoli torna in replica domenica alle 14. Intanto un assaggio. Nella puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno abbiamo parlato dei diritti e della dignità delle persone che vivono nelle nostre carceri. Sono oltre 60.000 nel nostro paese. Lo abbiamo fatto con il garante delle persone private di libertà in Piemonte, il garante regionale Bruno Mellano. Senta Mellano, secondo lei qual è la situazione nelle carceri piemontese e qual è il problema più importante? Abbiamo un problema di strutture che sono o vecchie o inadeguate. Molte sono state costruite nel periodo del terrorismo o con i criteri di sicurezza del terrorismo quindi non erano previsti spazi per scuola, per formazione, per lavoro. Mentre invece sappiamo che un carcere efficace o efficiente è il carcere che riesce a prendere in cura, in carico, le persone detenute e costruire dei percorsi fra il dentro e il fuori ma usando il tempo del carcere per un cambio di vita. Occorre quindi personale, occorrono strutture, occorrono risorse. E allora parliamo di vita amministrativa. Andiamo a Baveno dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell'asilo, un cantiere importante che dovrebbe concludersi prima dell'estate. Sono cominciati a Baveno i lavori per il restyling completo dell'asilo Nido sotto lo stadio Galli. Quasi 500 mila euro di intervento finanziato col PNNR. Quando torneranno i ragazzi nel prossimo anno scolastico si troveranno un asilo ex novo. Completamente nuovo perché l'ariqualificazione è sicuramente una buona parte energetica quindi in fissi, cappotto e pannelli solari. C'è una parte strutturale, una parte che riguarda i pavimenti e tutto quello che sarà all'interno. Quindi aree di nuovi, un asilo completamente rifatto. Siamo contenti perché abbiamo lavorato negli scorsi anni sulle ipotizzazioni e siamo soddisfatti di aver portato a casa questo importante contributo che va a intervenire su uno stabile su cui teniamo particolarmente. I lavori sono cominciati questa settimana in base al cronoprogramma, 120 giorni per terminarli. 120 giorni, noi ci siamo dati come fine lavori diciamo fine maggio, inizio giugno perché poi a giugno cominceranno ad arrivare gli arredi pronti per il prossimo anno scolastico a settembre. Non è questo il solo intervento finanziato grazie ai fondi del PNR? No, lo dicevo prima, casa di riposo, asilo, palestra, insomma interventi su tre stabili importanti per il comune e su categorie di persone che sono o persone fragili come gli anziani o sul futuro della nostra comunità che sono i giovani. Prossimi progetti, sindaco? Diversi, le serre, abbiamo questo portato importante che va un po' a chiudere il palco di Villa Fedora abbiamo un nuovo pontile che vorremmo rifare a metà del lungolaco di Baveno e tanto altro, insomma, quindi stiamo veramente intervenendo a 360 gradi in una città che, insomma, secondo me comincia a essere una bella città. Tornando sul tema delle elezioni, sentiamo quali sono i comuni dell'Aronese che andranno al voto il prossimo 8 e 9 giugno. Saranno una decina i comuni dell'Aronese dove i cittadini, oltre che per le europee e le regionali l'8 e 9 giugno saranno chiamati alle urne anche per le amministrative. Ricordiamo che nei comuni sopra i 10.000 abitanti verranno eletti 16 consiglieri più il sindaco tra i 3.000 e i 10.000 saranno eletti 12 consiglieri più il sindaco e per i paesi sotto i 3.000 residenti verranno eletti 10 consiglieri più il sindaco. A Darona, 13.693 abitanti, si va al voto dopo soli 4 anni. Infatti, il 20-21 settembre 2020 era stato eletto Federico Monti, decaduto nel settembre 2023 per le dimissioni dell'intera maggioranza. Il Comune è ora eletto dal commissario prefettizio Alfonso Terribile. A Castelletto Ticino, 9.857 abitanti, il 26 maggio 2019 era stato eletto Massimo Stilo. Si va al voto per la sua riconferma o la sua successione. Poi si vota per le comunali anche a Meina, 2.383 abitanti, sindaco uscente Fabrizio Barbieri. A Paruzzaro, 2.145 abitanti, sindaco uscente Mauro Iulita. A Dolegio Castello, 2.224 residenti, sindaco uscente Marco Cairo. A Massino Visconti, 1.129 abitanti, sindaco uscente Antonio Airoldi. A Colazza, 549 residenti, sindaco uscente Davide Riboni. A Pisano, 804 abitanti, sindaco uscente Valeria Pastore. A D'Agrate con Turbia, 1.515 residenti, sindaco uscente Simone Tosi. A Gattico Veruno, 5.226 abitanti, si va al voto per la riconferma o la successione dell'attuale sindaco Federico Casaccio. Sul Vergante si vota pure per il Comune di Gignese, 1.065 residenti. L'amministrazione del Paese è ora retta dal Commissario Prefettizio Monica Gulisano, in quanto nelle amministrative del 2023 le due liste presentate non erano state ritenute valide. Sono iniziati in questi giorni gli interventi di potatura degli alberi di proprietà del Comune a Verbagna, che vedranno quest'anno oltre 550 interventi individuati in base alla necessità dei singoli alberi. La ditta specializzata e incaricata, spiega il sindaco Silvia Marchionini, ha iniziato dalle scuole, per ora quelle di Suna, perché si è deciso di intervenire in base al livello di sensibilità e necessità, suddividendo le aree in scuole e asili, strade e piazze e infine parchi e aree verdi. Ricordo che negli scorsi anni abbiamo provveduto, con il lavoro dell'assessorato all'ambiente, ad effettuare una verifica degli alberi comunali, che sono oltre 3.400, e alla redazione di un database informatico per avere precisamente tutte le informazioni, a partire dagli alberi di grande fusto, sui quali è stato fatto un controllo strutturale per le loro caratteristiche dimensionali, perché collocati in una classe di rischio, come la collocazione in ambiti urbani con elevata frequentazione. E ora passiamo agli appuntamenti, ad Anzino torna la Domenica del Giglio, anche quest'anno la celebrazione sarà ufficiata dal Rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova. Anzino si appresta a celebrare la Domenica del Giglio, ogni anno nel piccolo paese della Valle Anzasca una festa antoniana unica al mondo, che ricorda l'arrivo in paese del quadro di Sant'Antonio, considerato miracoloso dalla devozione popolare. Si tratta della pala d'altare del Santuario di Sant'Antonio, che raffigura i miracoli del Santo. La tela, secondo la tradizione, ebbe un trasporto avventuroso verso le Alpi. Giunta ad Anzino fu salutata dalla fioritura dei Candi di Gigli nei pascoli di montagna, tra la neve dell'inverno. Il quadro conobbe da subito una particolare venerazione non solo in Valle Anzasca, ma da parte di tutte le valli vicine e la festa di gennaio si attestò molto presto nei registri locali. Ancora oggi la Domenica del Giglio ricorda il legame profondo tra il Santo e gli Anzinesi, richiamando moltissimi pellegrini da tutte le valli circostanti e da tutta la diocesi di Novara. Questo sabato alle 20.30 i primi Vespri. Domenica alle 11 la Messa Solenne è celebrata da Fra Antonio Ramina. Anche quest'anno ci saranno il Rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio di Padova, insieme con un confratello. Alle 15 Vespro Solenne è processione con la Statua del Santo. Non solo. Ogni anno tra i monti della Valdossola si ripete un rito antichissimo e ricco di fede. Da 350 anni i pellegrini da tutto il territorio circostante giungono a piedi attraverso i monti al borgo di Anzino per pregare Sant'Antonio. E questo è il Cammino di Anzino, recentemente convenzionato con il Cammino di Sant'Antonio, che da Campo San Pietro arriva alla Verna nel suo tratto principale. Siamo alle anticipazioni della nuova puntata di Laghi e Monti, che vi racconta attraverso un docufilm la grande impresa di Marcello Ugazio, da Genova fino alla vetta del Monte Bianco, con Ivan Svilpo, uno degli organizzatori della prova sportiva. La nuova puntata di Laghi e Monti comincerà a bordo di un elicottero. Perché? Perché l'elicottero offre una vista davvero particolare e privilegiata sul nostro territorio. Perché l'elicottero è importantissimo per il lavoro sulle nostre montagne e lo sappiamo anche per la sicurezza. E poi perché l'elicottero ci ha permesso di avere delle riprese incredibili per una grande impresa che è stata a portata a termine lo scorso anno. Un record, quello di Marcello Ugazio. Ivan, che cosa ha portato a casa Marcello? Ha portato a casa l'FKT, il Fastest Snow Time, ossia il miglior tempo conosciuto su un tratto. Si parla proprio del tratto della Genova-Monte Bianco. E noi avremo in un docufilm tutte le immagini di questa grande impresa durata due giorni. Allora non perdete la puntata di Laghi e Monti che vi aspetta come sempre su VCO Azzurra TV la domenica ore 13.30, 19.23. Ricordatevi che siamo anche sui nostri social. Siamo ora alla pagina sportiva e partiamo dal calcio. Negli anticipi di oggi in Serie D, colpo grosso del Gozzano che passa 3-0 al Fausto Coppi di Tortona in un match con tre rigori. Schimenti nel primo tempo e pennati nella ripresa segnano dagli 11 metri. Vagge ne para uno e nel finale Ferrari cala il Tris. Borgosesi ha invece sconfitto 2-0 dalla Ligorna ormai spacciato. Domani la RG Ticino può superare l'Albenga in casa portandosi al terzo posto. E rimaniamo sempre a parlare di calcio e scopriamo quale sarà il programma di questa domenica sui campi della nostra zona. Giornata di derby in eccellenza con tante partite davvero molto molto interessanti. Il match clou è sicuramente quello che si gioca a doleggio tra la capolista allenata da Galeazzi e di Laboulé Bellinzago in rampa di lancio e piombato prepotentemente in corsa per la vittoria del torneo. Anche a Novarello Big Match tra la Pro Novara, la squadra più in forma del campionato ormai serissima candidata per la conquista della Serie D, i ragazzi di Mister e di Ghiera affronteranno un'Accademia Borgomero che invece nelle ultime settimane è incappata in diversi passi falsi. Il terzo derby di giornata è quello che si gioca sul campo della Biellese tra i padroni di casa e la città di Cossato. Lo stresavergante dopo il successo importantissimo della scorsa settimana vuole continuare nella sua risalita sul campo della Borgaro, partita affascinante e stimolante per Mister Cacciatore che affronta il suo recente passato. Completano il quadro della giornata di eccellenza o il piano pianese a Greville, settimo a Ricesi Orizzonti mentre il Verbagna a quota 26 giocherà in trasferta contro il Lascaris in promozione. La partita più importante si gioca al Comunale di Briga tra la prima della classe e la città di Baveno, terzo a meno 10 e l'ultima chiamata probabilmente per la squadra di Sottini per provare a rientrare in corsa per la promozione diretta. Guarderà con interesse al risultato di questa partita la seconda forza del campionato, il Trino che però rischia grosso sul campo di una Rona rilanciatosi dopo la pausa invernale. La Juve Domo cerca punti importanti per muovere la classifica e per tornare vicina alla zona play-off. Al Curotti arriva la Chiavazzese. Lomenia vuole continuare nel suo Magic Moment sul campo della Dufur-Varallo match interno per il Ferriolo che affronterà il Valduggia. In prima categoria la capolista novassese vuole mantenere il primato in casa contro il Sizzano. La Canobiese va a giocare a Abagnella, il piedi molera sul terreno di gioco della Grano. Comignago Virtus Villa, Pernatese, Union e Novara completano il quadro delle partite. E ora passiamo al ciclismo. Sesta piazza per Francesca Barale alla Deakin University Elite Women's Race. Corsa nella notte italiana oggi e ieri è vinta da Rosita Reynut della Visma Lisa Bike. Lo Solana ha terminato nelle avanguardie del gruppo che inseguiva tre fuggitive dopo che a 20 km dall'arrivo un problema meccanico l'ha costretta a un cambio di bicicletta. Ovviamente sono contenta di questi risultati, ha detto Francesca. A fine gara iniziare in questo modo la stagione dà un grande morale. Stanotte la prova maschile con in gara anche Filippo Ganna. E per concludere ci occupiamo di basket con la sconfitta per la fin domo Pediacop 24 al Palaraccagni contro Novara. Sconfitta per la fin domo Pediacop H24. I Granata al Palaraccagni ieri sera hanno pagato a caro prezzo gli impegni degli ultimi giorni. Basti pensare che solamente 72 ore prima erano di scena sul parquet di Paruzzar dove sono stati sconfitti dai Vikings. Per tre quarti comunque la squadra di Boschetti se l'è giocata alla pari con il quotato Novara Basket che all'andata, ricordiamolo, aveva travolto i Granata infliggendo loro la prima sconfitta stagionale decisamente fragorosa con un passivo di 40 punti. Dal 25esimo in avanti però ieri sera non c'è più stata partita con gli ospiti che hanno allungato le mani sul match prendendosi una margine in doppia cifra sfruttando la profondità della rosa e le giocate di Martini e Romano autori rispettivamente di 20 e 13 punti. Purtroppo è un periodo nel quale facciamo fatica in attacco tanti errori banali anche dalla lunetta tante palle perse fino a quando abbiamo avuto benzina eravamo in scia dobbiamo rimanere fiduciosi evidenzia a fine gara il presidente della cestistica Nicola Guerra consapevoli che al completo siamo un osso duro per chiunque è un momento che dobbiamo superare con l'atteggiamento giusto perché la nostra squadra ha qualità importanti e lo ha dimostrato e sono sicuro che saprà mettere in risalto anche nel prossimo futuro. E questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui vi ricordo che ci potete seguire anche sui nostri social e sul sito www.vciazzurratv.it Buona serata e buona domenica!